Si sono presentati oggi, nell'anomalo orario delle 13, i 32 candidati della lista civica Pesaro Svolta a sostegno di Marco Lanzi come candidato sindaco di Pesaro. Lanzi che ci ha tenuto a specificare come fosse l'unico orario compatibile con una lista non costituita da politici di professione ma da lavoratori che abbracciano ogni settore della società civile. Nella sede di Piazzale Matteotti Pesaro Svolta si presenta allora come una lista prettamente civica all'interno di una coalizione che ha abbracciato i partiti di centrodestra. Fra i 32 candidati presentati sfilano dunque medici, infermieri, liberi professionisti, avvocati, dipendenti ministeriali, esponenti di quella polizia con cui Lanzi ha lavorato una vita ma anche persone vicine al mondo del volontariato eppure esponenti di comitati protagonisti di battaglie recenti come la variante urbanistica di Largo Tremartiri. I legami con esperienze politiche pregresse a Pesaro Svolta si riducono infatti ai soli consiglieri comunali uscenti Giulia Marchionni e Giovanni Dall'Asta e al manager Albino Calcinari che dà sempre la maschera cittadina Rabachen e che già si candidò sindaco con la rosa di Pesaro e poi alla confluenza in lista degli esponenti di azione Giovanni Amati ed Elena Fabri. 32 persone con le quali io mi sono riconosciuto sul programma, su tanti progetti, su tanti valori. La cosa bellissima è che tre o quattro di queste persone con me hanno passato tutta la vita, sono stati con me, sono nati e cresciuti in polizia con me. Mentre tutte le altre persone io le ho conosciute strada facendo, molti di loro le ho incontrate adesso, non le conoscevo ed è stata una cosa bellissima perché ci siamo riconosciuti in tanti valori che abbiamo condiviso senza nessuna appartenenza ideologica o politica o di qualsiasi altro tipo e questa è una vera, la nostra è una vera lista civica a differenza di altre liste civiche che voi cercano di farsi passare per liste civiche ma voi sapete meglio di me che a capo di queste liste molte volte ci sono addirittura degli assessori o comunque degli esponenti politici. Io non ho nessuna tessera di partito, come voi sapete ho abbracciato, ho deciso di intraprendere questa avventura perché ci credo tantissimo, credo che ci siano tantissime cose da fare per la nostra città. Io da tempo ormai sto girando tutti i quartieri e sono veramente sorpreso, rendendomi conto che tanti quartieri sono stati abbandonati a loro stessi, non soltanto quelli più lontani, più periferici come possono essere Borgo, Santa Maria o Monticecardo, ma anche quelli del centro, veramente, è mancata credo in questi anni, in questi ultimi anni la cura della città e credo che tutte le persone che oggi sono qui presenti con me e che sottrarranno tempo alla loro attività professionale, alla loro famiglia proprio perché non sono politici, lo ripeto, non sono politici di professione, tutte queste persone che hanno abbracciato questo progetto lo faranno proprio per cercare di dare una svolta alla nostra città. Ad un mese esatto dalla chiamata alle urne la campagna elettorale di Pesaro Svolta continuerà ad essere una capillare campagna d'ascolto delle voci del territorio. L'ho ribadito più volte, noi abbiamo presentato un programma, ma il nostro è un programma aperto, un programma che si integra continuamente, ma come si integra? Partendo proprio dall'ascolto, dall'ascolto delle associazioni di categoria, delle associazioni che rappresentano i lavoratori, partendo dall'ascolto dai quartieri, di tutti i cittadini che veramente tante volte si sono, io sento tantissimi cittadini che si sentono abbandonati e hanno tante proposte per la loro città e credo che tante di queste proposte un sindaco abbia l'obbligo, veramente il dovere di riuscire non soltanto ad accoglierle, ma veramente a realizzarle e rendere, ripeto, più bella la nostra città.